Bisognava dimostrare di aver fatto uno step a livello mentale, caratteriale e tecnico, lo aveva detto Conte in conferenza e lo ha chiesto di nuovo e ha martellato la squadra su questo aspetto, ma lo ha anche dimostrato l'Inter che esce dal Camp Nou senza punti e rischia di compromettere il suo cammino in Champions dopo solo due giornate, ma esce dal Camp Nou con una convinzione, con delle conferme che per importanza forse vanno anche al di sopra dei punti stessi nella singola partita. Dopo Messi ora c'è Cristiano Ronaldo e c'è soprattutto la Juventus, la sfida più attesa, il banco di prova forse più importante per questa Inter di Antonio Conte che sta preparando questa sfida già da diverse settimane, ma come ci arriva adesso l'Inter e cosa dobbiamo aspettarci da questo incrocio? Ne parliamo nel venticinquesimo episodio di Passione Inter Talk. Eccoci, ben ritrovati allora amici interisti e amici di Passione Inter Talk, venticinquesimo appuntamento con il nostro podcast, anche questo in versione ridotta perché arriva dopo il precedente episodio andato in onda lunedì, un episodio molto interessante che vi consiglio di andare a recuperare, di andare a riascoltare. Questo venticinquesimo episodio arriva a cavallo di due sfide veramente enormi, come abbiamo detto in apertura perché commenteremo in apertura la prima sconfitta stagionale di Antonio Conte all'Inter che arriva contro il Barcellona in una partita che lascia comunque tanto amaro in bocca, ma anche tanti spunti positivi. Poi domenica l'attesissimo derby d'Italia contro la Juventus, uno contro il vertice, Inter prima Juventus seconda, a cui non assistevamo veramente da tanti anni, quindi assume una carica se possibile ancora più speciale. Allora ragazzi, io sto un po' recuperando ancora dalla trasferta di Barcellona, dalla mia voce forse ne risentirete un po', però non perdiamo tempo, partiamo subito con questo episodio. Io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com, con me a commentare e a completare questo tridente diventato ormai fisso, ci sono i consueti compagni di viaggio, ovvero i redattori di PassioneInter.com, Antonio Sirabusano. Ciao Antonio. Ciao Lorenzo, un saluto a tutti. E Raffaele Caruso, ben ritrovato Raffaele. Ciao Lorenzo, ciao Antonio e un saluto a tutti i tifosi neroazzurri. Puntata quindi veramente ricca di argomenti. Prima di iniziare voglio brevemente segnalare a tutti i nostri ascoltatori appassionati di Premier il nostro sito partner, PassioneInter.com. Vorrei ricordarvi che questo progetto che è curato dai nostri amici che stanno portando avanti un'iniziativa molto interessante, anche con un podcast dedicato alla Premier e alla cultura inglese, lo trovate su tutte le piattaforme di podcasting. Vi invito ad andare a seguirlo, soprattutto vi invito a votare PassionePremier.com come miglior blog dell'anno sul sito SuperScommesse. Se andate su PassionePremier.com trovate tutto, potete sostenere questo progetto veramente interessante. Così, come vi ricordo, miglioriptp.com è il sito che si occupa di tecnologia, tv online e decoder e che sostiene PassioneInterTalk. Ci permette quindi di portare avanti questo progetto. Se vi piace PassioneInterTalk, se volete darci una mano, andate a visitare allora miglioriptp.com che ci sta sostenendo e se volete sponsorizzare questo podcast in questo spazio, mandate una mail a info-passioneinter.com Benissimo, abbiamo fatto quindi tutto questo giro di presentazioni. Ragazzi, arriviamo con questo episodio a cavallo, come detto, di due grandi sfide. La prima, che commenteremo adesso in questo primo blocco di PassioneInterTalk, Barcellona-Inter 2-1, seconda giornata del girone di Champions. Al gol a freddo di Lautaro Martinez risponde la doppietta di un top player assoluto. Come Suarez, Inter che esce arrabbiata da questa sfida per le decisioni dell'arbitro Scomina e poi ne riparliamo. Prima però vorrei analizzare con voi una partita che, secondo me, è stata una gara di quelle classiche che possiamo definire dai due volti. Primo tempo sicuramente più a favore dell'Inter, secondo tempo invece che ha visto il ritorno prepotente del Barcellona a far da sfarti acqua o comunque a far la differenza, secondo me, sia da una parte che dall'altra, sono state le sostituzioni, i ricambi scelti dai due tecnici, oltre chiaramente allo strapotere di due top player assoluti, due fenomeni. Quando hai giocatori così, sicuramente puoi aspettarti il colpo che fa la differenza dal momento all'altro. Raffaele, ti chiedo se sei d'accordo e che partita hai visto. Sì, Lorenzo, sono completamente d'accordo. Secondo me il primo tempo dell'Inter è stato davvero sorprendente. Sorprendente in base a tutte le ultime prestazioni che l'Inter ha dentro al Camp Nou vedere l'Inter tenere il palino del gioco, seppur comunque il possesso palla è stato in favore del Barcellona anche nella prima frazione di gara, però l'Inter ha veramente creato tanto. È riuscita con personalità un po' nel proprio gioco, ripartendo anche dal basso e coinvolgendo Andanovic, Brozovic in cabina di regia, però il primo tempo dell'Inter è veramente stato qualcosa di spettacolare. Forse è uno dei migliori tempi, forse esagero, ma della storia dell'Inter considerando comunque il valore e dove si giocava. Poi nel secondo tempo, come hai detto tu bene, la differenza hanno fatto i cambi, l'ha fatto la panchina, il Barcellona comunque aveva tante assenze, poi alla fine comunque è riuscito a recuperare Messi dal tuo minuto, però se fa entrare Dembélé, vi dà dalla panchina, lasciando anche Rakitic o altri comunque campioni, questo fa comunque capire il livello di Rosa che vi è tra le due squadre. Però io non mi sento di condannare l'Inter nemmeno nel secondo tempo perché comunque l'Inter ci ha provato, ha provato comunque sempre a farsi vedere dalle parti di Versteggen, c'è stato quell'episodio dubbio, noi affronteremo sicuramente dopo, di rigore, di sensi che magari avrebbe potuto indirizzare la partita diversamente, ma possiamo essere soltanto contenti per quello che l'Inter ha mostrato, sia a livello di gioco, di personalità, di mentalità. Sono arrivati i segnali positivi, incoraggianti soprattutto in vista di domenica e comunque per il proseguo della stagione questa Inter veramente, veramente ci può regalare soddisfazione. Ecco, tra l'altro Raffaele approfitto poi per passare la palla ad Antonio, rispetto ad un anno fa c'è stato un cambio di passo netto perché se ricordiamo un anno fa uscivamo dal Camp Nou quasi rassegnati, anche Spalletti aveva un po' ammesso questa superiorità così netta del Barcellona. Questa volta, se non sbaglio, poi ditemi se siete d'accordo, abbiamo visto un Barcellona molto più falloso, molto meno qualitativo, poi magari chiaramente è sicuramente la singola partita, non possiamo giudicare proprio a livello assoluto in questo modo qui, però abbiamo visto un Barcellona molto più falloso e un Inter che se un anno fa usciva con quella segnale di resa di non poter far nulla contro questi alieni qui, questa volta almeno se l'è giocata possiamo dire ad armi quasi pari o anzi avrebbe meritato forse qualcosina in più. E questo, Antonio, secondo te quanto è importante e cosa ci dice anche di questa Inter di Conte? Ci dice che c'è stato uno scatto mentale, soprattutto a livello mentale, perché nelle intenzioni anche lo scorso anno nella squadra di Spalletti c'era quella volontà di andare a giocare palla a terra dalla difesa e affrontare il Barcellona quasi con lo stesso gioco. Lì in realtà c'era ovviamente meno qualità perché mancavano giocatori come Senzi e Barella che oggi sono fondamentali per la manovra, ma soprattutto mancava quell'atteggiamento anche spavallo di andare al Camp Nou contro una delle squadre che gioca il miglior calcio al mondo e che l'ha giocato negli ultimi quattro anni, anche di più, e andare a fare una grandissima partita, un grandissimo primo tempo. Per cui secondo me la mano di Conte ieri si è vista soprattutto a livello mentale, come dicevi prima tu, quella personalità, quel coraggio che aveva chiesto più volte alla vigilia e che ha visto e per questo in fondo è soddisfatto per la prestazione. Poi il risultato ovviamente non ha visto tre punti, non ha visto neanche un punto, però insomma non è niente da buttare. Dobbiamo dire che l'errore più grande dell'Inter è stato probabilmente uno, quello di non andare sul 2-0 nel primo tempo perché le occasioni e anche tante ce le ha avute. Poi il secondo tempo era anche partita bene, sono stati gli ultimi minuti, gli ultimi 25-30 minuti del secondo tempo che l'Inter ha subito lì davvero il gioco, i cambi del Barcellona, anche fisicamente il Barcellona che aveva dato di meno rispetto all'Inter nella prima ora di gioco, poi è uscita benissimo negli ultimi minuti e l'Inter lì ha pagato. Però se l'Inter fosse stata un po' più concreta, nel primo tempo probabilmente avrebbe potuto gestire anche meglio. In molte hanno criticato il cambio di Gagliardini, in realtà quando Gagliardini è entrato l'idea di Conte era chiara, era quella di dare un po' più di fisicità al centrocampo, quindi mettere un po' più sulla difensiva della squadra che fisicamente era calata tantissimo. Poi secondo me è mancato un po' Sensi alla fine, però non si può dire nulla a Sensi che aveva giocato una super partita, e quando è stato avanzato, è stato messo al fianco comunque qualche metro dietro rispetto all'autaro, non ha dato più quel collante che Conte probabilmente avrebbe voluto vedere. Però insomma veramente nulla da dire, poi l'hanno decisa due giocate incredibili, li ha messi su Arez, quindi davvero ottima prestazione, risultato prima o poi verrà, anche contro queste squadre. Ecco, aggiungo alla tua analisi due cose Antonio, rispetto ad un anno fa. Secondo me quest'anno questa prestazione fornita col Barcellona arriva secondo me anche grazie alle vittorie che si sono avute in campionato, mi spiego meglio. Sappiamo che comunque la vittoria seppur tirata, alcune partite forse in campionato non abbiamo pienamente meritato di vincerle magari dal punto di vista proprio del gioco, però questa serie di filotti e di vittorie che ti abituano veramente a vincere hanno fatto sì che anche la squadra credesse ancora di più nelle parole di Antonio Conte, ovvero di andare a Barcellona per giocassela. Magari un anno fa si diceva sì andiamo a Barcellona per giocarcela, poi in campionato i risultati erano stati altalenanti. Penso che anche per i giocatori sia stato più difficile un anno fa rispetto ad ora fidarsi tra virgolette di quello che diceva il mister e quindi scendere in campo con la testa sgombera e andare a cercare il risultato contro una potenza sbarcellona. Poi per quanto riguarda le prestazioni dei singoli, il fatto come dicevi giustamente tu che uno dei principali guai o comunque dei principali errori, se possiamo chiamarli così da parte dell'Inter, è stato non chiudere il primo tempo sul 2-0. Ti posso dire che io ero al Camp Nou come detto e lato giornalistico Barcellona, oltre a Messi e Suarez, è stato esaltato tantissimo anche la prestazione di Ter Stegen, il portiere del Barcellona e tutti hanno sottolineato anche la fondamentale importanza di Ter Stegen. Ai fini di questo risultato nel post partito è stato intercettato dai giornalisti e c'era una ressa proprio per intervistare Ter Stegen che era l'uomo più atteso, tra i più attesi comunque di casa Barcellona, anche questo secondo me dice tanto. Detto questo vi leggo un attimo la classifica quindi del girone del gruppo F che vede il Borussia Dortmund a pari punti con il Barcellona in vetta alla classifica con 4 punti, poi Inter e Slavia-Praga invece sono indietro con un punto a testa dopo due giornate. Il calendario vede poi l'Inter in casa contro il Borussia Dortmund il 23 ottobre, poi di nuovo il Borussia Dortmund ma in trasferta chiaramente il 5 novembre e poi si va a Praga con lo Slavia per chiudere con Inter-Barcellona a San Siro il 10 dicembre. Questa potrebbe essere, ce lo auguriamo almeno, che sia una sfida decisiva per il passaggio del turno. Antonio e poi Raffaele, qualificazione compromessa o ci credete ancora? No, non è compromessa perché perdere al Camp Nou contro il Barcellona ci può stare, le partite importanti saranno poi quelle contro il Borussia Dortmund, si giocherà il 23 in casa, poi il turno successivo invece in Germania e lì l'Inter deve almeno ottenere 4 punti per poter sperare. Ovviamente poi dovrà vincere in casa dello Slavia-Praga e non è scontato visto il risultato dell'andata, però insomma ancora la fiducia ci deve essere, non ha senso alla seconda giornata parlare già di un Inter comunque con qualificazione compromessa, anche se Conte non è sembrato molto ottimista, però in realtà c'è il doppio confronto con la squadra che sulla carta era la rivale principale dell'Inter alla vigilia perché il Barcellona veniva comunque già dato come favorito per la qualificazione come primo del girone, quindi aspettiamo questo doppio confronto e lì sicuramente dopo la quarta giornata avremo le idee sicuramente più chiari. Raffaele io ti passo la palla e ne approfitto per aggiungerti anche un'altra domanda, visto che tu sei uno dei più, diciamo di quelli che si sono sbilanciati di più almeno all'interno della nostra redazione sugli obiettivi di questa Inter, eliminazione dalla Champions per concentrare tutti gli sforzi sul campionato, ti strapperesti i capelli? No, non mi strapperei i capelli perché gli step devono essere graduali dal campo agli obiettivi della società, l'Inter attualmente non ha la rosa adatta per puntare alla vittoria della Champions League, ovviamente arrivare il più avanti possibile rappresenterà anche un'importante entrata economica per il club, però io credo che ogni tifoso se potesse scegliere, sceglierebbe di vincere il campionato e lasciare la Champions League già a dicembre. Questo lo farebbe anche Conte perché Conte sa che prima di puntare a qualcosa di importante in Europa, di passare dal campionato, la vittoria del campionato ti consentirebbe comunque di creare e allestire una rosa sicuramente più competitiva in vista della prossima Champions League e quindi sicuramente l'Inter dovrebbe puntare al campionato, se comunque la Champions League è un palcoscenico importante soprattutto per ricevere quei segnali che abbiamo ricevuto soprattutto dopo la partita di Barcellona, comunque fa crescere la consapevolezza, la tua stimola, fiducia all'interno del gruppo. Per quanto riguarda la situazione non è assolutamente compromessa, come ho detto Antonio le prossime due partite sono decisive, c'è un dato alla fine appunto se parliamo con i numeri, se l'Inter dovesse fare quattro punti e le prossime due col Borussia Dortmund, con l'Osvalda Praga potrebbe già arrivare il primo match point perché l'Inter e Borussia andrebbero a fare i punti, l'Inter potrebbe avere il primo match point vincendo sul campo dell'Osvalda Praga e qualora il Barcellona sconfigga in casa il Borussia Dortmund, l'Inter saprebbe il pass per gli ottavi di finale, quindi passa tutto dalle prossime due partite, se l'Inter fa quattro punti e vince con l'Osvalda Praga potrebbe già qualificarsi agli ottavi di finale, poi dipenderebbe ovviamente da quello che fa il Barcellona sia con l'Osvalda Praga che con il Borussia Dortmund, però l'Inter è ancora in piena corsa, dovremmo giocarcela con quelli che erano gli avversari alla vigilia quando appunto ci sono stati i sorteggi con cui ce la saremmo giocata è ancora tutto in corsa, questa Inter, l'Inter che si è vista a Camp Nou, l'Inter che noi abbiamo visto in queste prime sei giornate può sicuramente giocare alla pari con il Borussia che sinceramente non mi ha così tanto impressionato nella traspetta di Slavia perché con l'Osvalda Praga comunque con l'Osvalda Praga ha avuto le sue occasioni, è risultato anche un po' bugiardo per quello che si è visto in campo, quindi la fiducia c'è. Ecco, diciamo quindi che il rammarico più grande a questo punto ovviamente resta il pareggio contro l'Osvalda Praga in cui dal punto di vista dell'atteggiamento forse avremmo dovuto fare qualcosina in più, prendere qualcosina di quello che poi abbiamo dato in Barcellona Inter. Raffaele, rapidamente resto da te ti vorrei chiedere se ci fai una piccola panoramica anche sui voti e sulle pagelle che hai fatto di Barcellona Inter, quali sono i voti dei top e qualcuno che invece ha fatto un po' discutere di questa partita? Sì, i migliori in campo sono stati Sense Varella perché passare dalla Sardegna Arena o dal Mapistadio, ma al campo no, è mostrare così tanta personalità e quasi per un 45 minuti, 60 minuti abbondanti, portare tra virgolette a spasso il centro campo del Barcellona non è da tutti, Sense Varella hanno fatto una panita strepitosa come l'ha fatto anche Brozovic per i primi 45 minuti, centro campo dell'Inter nell'uscita a palla, ma anche nel Presse in quanto altro è stato spettacolare e poi ho premiato l'attacco perché Lautaro e Sanchez hanno un'intesa meravigliosa tra i due, l'avevamo già visto con la Saldori, i segnali erano aventi incoraggianti, però l'intesa veramente tra Lautaro e Sanchez è qualcosa che mi ha lasciato veramente perplesso, Lautaro poi ha zittito tutti, ha zittito le critiche, qualcuno diceva appunto che era poco cattivo sotto porta, beh dopo due minuti ha infilato quella palla al campo nuovo contro Der Stegen, una bellissima azione, quindi non lasciando scampo al portiere avversario, sicuramente dimostrando di essere comunque un attaccante che può comunque segnare, peccato per quella parata di Der Stegen come detto tu. Le note negative, beh Codin per il gol di Suarez 2-1 se lo è perso, comunque Suarez ha fatto una grande giocata, però magari quell'uscita così pericolata magari poteva essere evitata e poi non mi sono piaciuti coloro coloro che sono entrati poi in campo da Politano, anche la gestione di quella azione che poi ha portato al gol del 2-1 di Suarez, anche D'Ambrosio non è entrato magari con il pilio giusto, così anche come Gagliardini, anche se comunque non mi sento di bocciarlo completamente, è entrato in un momento particolare del match. Diciamo che sono state queste le note negative insieme comunque ad Asamoah che si è fatto superare, anche se comunque contro c'è un campione come Lionel Messi, non è mai facile marcarlo, però magari un fallo cattico, un giallo si poteva spendere e chissà magari oggi saremmo usciti comunque dal campionato con un punto, peccato, però comunque la prestazione della squadra, ripeto, rimane comunque molto positiva. Vi posso dire ragazzi, io ero in tribuna stampa vicino a Radio Marca, quindi la radio spagnola, molto conosciuta, molto importante e tu giustamente hai sottolineato la prestazione di Barella, devo dirvi anche gli spagnoli sono rimasti veramente colpiti da Barella, sentivo quando facevano i collegamenti in radio, erano veramente esaltatissimi per la prestazione di Barella, tra l'altro Barella che ha vinto anche il premio di MVP di PassioneInter.com per Barcellona Inter ha ottenuto la maggioranza dei voti, ottenendo quindi 5 punti anche in questa giornata, superando Lautaro Martinez che ha ben impressionato davanti e che conquista 3 punti e poi al terzo posto anche Stefano Sensi che ormai è una costante tra gli MVP di questo inizio di stagione, quindi la nuova classifica vede Sensi primo 24 punti, Barella 16 punti, Godin 8, Brasovic 4, Lautaro 4, Candreva 4, ho saltato Andanovic a 5, Andrea Ranocchia 3, Defray 1 punto, Politano 1 punto e Bastoni 1 punto. Lorenzo, poi non va dimenticato che Barella ha giocato tutta la partita con un cartellino giallo rimediato dopo pochi minuti, poteva condizionarla ma veramente ha mostrato grandissima personalità perché comunque non si è fatto condizionare tal giallo, al campo sicuramente non è roba da tutti. Esatto, esatto, poi tra l'altro dobbiamo anche dire che ad un certo punto la partita ha iniziato anche a scaldarsi un po' e abbiamo visto Antonio, un Antonio Conte sicuramente arrabbiatissimo nel post partita per le decisioni dell'arbitro Scomina. Sì perché in effetti ci sono state tante decisioni dubbie, poi sul rigore possiamo discuterne davvero tantissimo, il contatto in tempo reale sembrava leggero, poi rivedendolo dal replay in effetti ci poteva stare il calcio di rigore perché a velocità normale sembrava che se si fosse buttato, poi in realtà il contatto c'è stato, lì l'arbitro non ho capito perché non ha richiesto neanche il consulto VAR, però non è stato fischiato, ma al di là del rigore è stata un po' la gestione dei vari contrasti, anche dei cartellini, un arancione per Piquet che anche in quel caso si poteva rivedere non è stato rivisto, è stato estratto solamente il cartellino giallo, era stato un fallo bruttissimo su Barella, poi non so tu Lorenzo che pressione aveva avuto lì dal Camp Nou, ma secondo me l'arbitro poteva andare a rivedere quell'episodio, complessivamente non è stata una grande partita dal punto di vista arbitrale, ripeto ci sta l'episodio però è stata la gestione complessiva, poi probabilmente avrebbe vinto in ogni caso il Barcellona, però insomma assolutamente bocciato l'arbitro scovina. Devo dirti Anto che dallo stadio comunque la pressione che mette il Camp Nou si sente veramente tanto, stadio quasi pieno, effetto scenico veramente glamoroso, non so se avete avuto modo voi di assistere ad una partita e ad una partita di Champions al Camp Nou, comunque è impressionante l'effetto che ha il pubblico che può trasportare anche sul campo, non dico che ha condizionato l'arbitro perché comunque un arbitro a questi livelli qui non può essere condizionato da fattori ambientali, però sicuramente quando c'erano dei mezzi falli da una parte dei mezzi falli dall'altra, ecco il fattore casa secondo me si è fatto sentire. In presa diretta come dicevi anche tu, dallo stadio a me sinceramente su Sensi non sembrava rigore, in presa diretta sembrava avesse accentuato nettamente la caduta, detto questo c'è il VAR che è arrivato anche in Champions finalmente, magari un'occhiatina si poteva ridare e non dico che avrebbe dato il rigore però quantomeno avrebbe azzerato le polemiche post partita, se tu lo controlli non dai poi modo di poter cavalcare anche questa teoria del sospetto che si può alimentare in questi casi qui e che ha fatto molto arrabbiare l'Inter, poi nel post partita noi siamo andati in zona mista chiaramente per raccogliere le solite dichiarazioni post partita, invece l'Inter si è trincerata dietro un quasi silenzio stampa, ha fatto solo quelle che sono le dichiarazioni diciamo obbligatorie per sfuggire poi anche alla multa dell'UEFA, Inter che invece solitamente se non sbaglio ha vinto anche un premio che aveva pochissimo per le tante interviste che concede dopo le partite, invece questa volta ho parlato solo Lautaro Martinez e Conte, poi anche in conferenza un Conte arrabbiatissimo, abbiamo poi sono scesi in zona mista anche Marotta e Antonello che sembravano sereni però comunque hanno fatto trapelare un po' questa arrabbiatura anche per la gestione arbitrale della partita, chissà che questo non porti poi anche a quello che è secondo indiscrezioni degli ultimi giorni una possibile revisione dello strumento VAR in Europa per la prossima stagione, si parla del possibile inserimento di una chiamata VAR a partita da parte delle squadre, ovvero che una squadra può chiamare il VAR per una decisione a partita, questa sarebbe una rivoluzione che in tanti magari si auspicano e volevo segnalarvi poi ragazzi nel post partita che si è fermato Leo Messi, era da oltre un anno dicevano i colleghi lì in Catalogna che non si fermava a parlare con la stampa in zona mista, ho avuto la possibilità così di stare a due passi da Messi e ho provato a fare la domanda ma i giornalisti catalani e spagnoli in generale mi hanno letteralmente sommerso visto che non riuscivano ad intercettarlo da più di un anno, ho provato a fare la domanda per cercare un po' lo scoop diciamo così chiedendogli con chi si trova a giocare meglio tra Lautaro Martinez visto che giocano insieme in nazionale e Antoine Griezmann visto che non so se avete seguito le ultime vicende comunque in Spagna si cavalca molto questa cosa di alcune possibili frizioni tra Griezmann e Messi in un rapporto che deve ancora decollare, mi ha guardato a sorriso e purtroppo non ha risposto. Ci riproveremo la prossima volta magari a San Siro, vedremo se saremo più fortunati prima di chiudere ragazzi questo capitolo su Barcellona Inter vorrei leggervi poi anche alcuni passaggi di una bella intervista realizzata dal nostro Daniele Najar con Amadeus che condurrà Sanremo si sta preparando e grande tifoso interista come saprete e cosa ci ha detto Amadeus? Anche lui è d'accordo con noi e dice che la mossa di mettere Vidal ha cambiato gli equilibri della partita ma sfortuna e l'arbitro sono stati i più grandi avversari di questa Inter, il rigore avrebbe cambiato la partita e l'arbitraggio è stato insufficiente. Dice però che resta fiducioso per la qualificazione agli ottavi e è felice di come ha visto questa Inter in campo contro il Barcellona, ha esaltato Sensi e ha detto soprattutto se avesse giocato nel Barcellona questo Sensi che abbiamo visto al Camp Nou oggi diremmo che è nato il nuovo Iniesta. Ecco quindi vi invito ad andare a leggere l'intervista ad Amadeus su passioneinter.com, si sbilancia anche in un pronostico su Inter Juventus, Inter Juventus di cui parliamo nel prossimo blocco di Passione Inter Talk. Rieccoci allora con il nuovo blocco di questo episodio di Passione Inter Talk, abbiamo parlato tantissimo di Barcellona Inter che abbiamo commentato anche con i tanti tifosi che ci seguono sul gruppo Telegram di passioneinter.com se ancora non siete iscritti, vi ricordo di andare ad iscrivervi subito ma ci proiettiamo già da ora a Inter Juventus, questa sfida sentitissima come abbiamo detto l'Inter prima in classifica a 18 punti, la Juventus seconda a 16, un derby d'Italia che pesa già tantissimo nonostante siamo soltanto alla settima giornata di campionato, l'Inter come detto arriva da questa sconfitta ma con tante note positive dall'ultima uscita di Champions, Antonio invece come arriva la Juventus a questa partita? Arriva nel migliore dei modi perché con il Bayern Leverkusen ha giocato una partita clamorosa, davvero dominata, però c'è da dire una cosa che in questo inizio di stagione non è stata una Juventus molto continua, vado anche a riepilogare un po' di numeri, la Juventus in campionato ha 5 vittorie su 6 partite, in Champions League invece una sola vittoria e un pareggio con l'Atletico Madrid ma ricordiamo che era passata in casa dell'Atletico per 2-0. Il problema della Juve è che è stato un po' discontinuo, ad esempio all'esordio con il Parma non aveva giocato benissimo, con il Napoli poi 70 minuti di vero sarrismo, poi qualche difficoltà con la Fiorentina in cui ha pareggiato, con Verone e Brescia che sono due squadre sulla carta assolutamente non proibitive ma li ha sofferto tantissimo, infatti ha vinto 2-1 ma in rimonta con tanta tanta sofferenza e tante difficoltà. Poi nelle ultime due uscite con Spall e Leverkusen abbiamo visto una grandissima Juventus, con la Spall ha vinto solamente 2-0 ma perché Berisce è stato straordinario, ma poteva finire benissimo anche sul 5-0 il risultato perché Sarri ha trovato un nuovo modulo, si pensava inizialmente al 4-3-3 classico che aveva già utilizzato al Napoli e anche al Chelsea, in realtà questo 4-3-1-2 con il trequartista, la figura centrale di Ransei, una formula quasi geniale che in pochi si aspettavano alla Juventus e che ha permesso a Sarri di trovare la quadra. Per cui è una Juventus che arriva in un periodo di forma non dico straordinario, ma quasi, che sta trovando finalmente il proprio gioco, ma attenzione perché i passi falsi che ha fatto in questo inizio di stagione, anche se poi i risultati l'hanno premiata, insomma lasciano qualche dubbio. Io dico che l'Inter dovrà giocare a prescindere una grande partita, ma molto dipenderà anche dalla condizione della Juventus quella sera a San Siro. Juventus che sta pagando forse tantissimo questa assenza di Chiellini, che per loro è un giocatore assolutamente fondamentale e ha subito infatti qualche gol in più rispetto alle Juventus che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni probabilmente. L'Inter invece arriva a questa partita, come detto, dalla sconfitta col Barcellona, ma dovrà fare a meno di Alexis Sanchez che insieme a Lautaro Martinez abbiamo visto affinare un'intesa molto molto interessante al Camp Nou. Dall'altro lato però recupera un Lukaku che al Camp Nou invece avrebbe fatto molto comodo, Raffaele. Sì, sicuramente possiamo rassicurare i tifosi nera azzurri dicendo che Lukaku ci sarà, sarà lui l'attaccante che guiderà l'attacco nera azzurro in vista della Juventus. Sicuramente Lukaku avrebbe fatto comodo al Camp Nou, però Conte ha deciso in qualche modo di salvaguardarlo in vista appunto della sfida di Domenica contro la Juventus. Sappiamo come appunto ha subito un leggero affaticamento, quindi la Conte ha preferito non rischiarlo perché comunque Sanchez e Lautaro hanno fatto vedere già la Sandole che comunque funzionava come coppia, quindi ha deciso di preservarlo. Chi è a fianco di Lukaku? Beh, io credo che in questo momento spostare Lautaro dopo quello che ha fatto vedere al Camp Nou è molto difficile, quindi fa un pece anche la squadrica di Sanchez, dovremmo appunto assistere al tandem Lautaro-Lukaku. Per quanto riguarda gli altri della formazione, io credo che sarà quella appunto che noi abbiamo visto a Camp Nou, l'unico ballottaggio è tra Ambroso e Candreva. Candreva è partito titolare al Camp Nou, per me ha fatto anche una buona gara perché comunque nel primo tempo è riuscito in qualche modo sempre a venire meglio su Semedo, molti pericoli vengono comunque dalla sua parte. Vedremo se sceglierà D'Ambroso oppure Candreva, molto dipenderà comunque da questa scelta anche per il modo di giocare dell'Inte. Per quanto riguarda invece la Juventus, io credo che Sarri tornerà al trequartista, quindi giocherà Ramsey dal primo minuto dopo con la panchina contro il Bayer Leverkusen. Lì ha giocato Bernardeschi, quindi c'è stato il 4-3-3, crediamo se comunque tornerà a 4-3-1-2, io credo proprio di sì, comunque Ramsey ha dimostrato di essere un giocatore molto fondamentale per la Juventus. L'altro ballottaggio solito riguardi qua in Dybala a questo momento, credo che il Pipita sia in vantaggio per una malata titolare, chissà però se Sarri sorprenderà tutti con quel Dybala che i tifosi dell'Inter l'hanno anche desiderato nell'estate in quello scandio che si è parato tanto e vociferato tanto con i Cardi, per il resto invece tutto confermato, con Quadrado e Alexandro sulla fascia, Volucide Litt, accetto dalla difesa, il centrocampo sarà composto da Chidi Rapjanic e Maturini. Ecco ragazzi vorrei leggervi anche qualche numero, allora sarà il 236esimo derby d'Italia, sono passati 110 anni dal primo di tantissimi incroci, quindi tra Inter e Juventus, nello specifico a San Siro le due formazioni in Serie A si sono già affrontate 86 volte, ci sono 35 vittorie dell'Inter, 28 pareggi contro 23 vittorie della Juventus, gli ultimi 5 Inter-Juventus di campionato sono stati l'1-1 della scorsa stagione, poi la sconfitta polemica dell'Inter per 3-2 la ricorderete nella stagione 2017-2018, la vittoria per 2-1 dell'Inter 2016-2017, 1-0-0 nel 2015-2016 e poi un'altra vittoria della Juventus per 2-1 nella stagione 2014-2015, è previsto, sarà tutto esaurito, sono già andati a ruba tutti i biglietti, oltre 75 mila spettatori anche domani sera, ci saranno tifosi comunque da tutto il mondo, è previsto inoltre un incasso che supererà i 6,5 milioni di euro lordi, quindi sarà il nuovo massimo storico per il nostro campionato, tante attività proposte anche da parte dell'Inter, chiaramente in queste partite così importanti ci sarà anche un'ampia cornice nel pre-partita e una grande coreografia è stata preannunciata dall'Inter con tantissimi migliaia di cartoncini nero-azzurri che saranno distribuiti sugli spalti, su passionointer.com chiaramente potrete seguire tutto l'avvicinamento alla partita, già da domani con la conferenza alle ore 15, saremo presenti con i nostri inviati ad Appiano Gentile, poi tutti gli approfondimenti, le ultime viste di Inter-Juventus di domenica sera e poi l'ampio post-partita anche con i nostri inviati allo stadio, vi porteremo dentro San Siro per vivere al meglio come ogni volta questa super sfida. Una sfida ragazzi che parte un po', è stata già anticipata diciamo così da Antonio Conte che la sente particolarmente a partire da quel famoso interudinese con quelle prime dichiarazioni che hanno già acceso questa sfida e hanno reso rovente il clima tra le due formazioni. Vorrei chiedervi, abbiamo visto adesso Messi che ha fatto la differenza contro il Barcellona, la Juventus fa affidamento tantissimo su Cristiano Ronaldo, la sua stella, è campione quasi di pari livello possiamo dire con Messi. Lato Inter, Antonio chi ti aspetti tu possa essere l'uomo più imprevedibile o comunque l'uomo della partita in questo Inter-Juventus? Quindi verrebbe quasi scontato da dire Lukaku perché sembra davvero la sfida tra Lukaku contro Ronaldo, però in realtà tu prima hai letto la classifica dei nostri MVP e Lukaku non figura nei primi e questo è un segnale che ci può dire qualcosa. Per cui io dico Lautaro, l'unico dubbio più su Lautaro è che ha giocato tutta la partita contro il Barcellona e ha concluso il match visibilmente affaticato, quindi quello può essere l'unico dubbio. Però se mi aspetto un guizzo alla giocata del campione da qualcuno in questo momento è Lautaro Martinez. Lukaku ancora non sta bene fisicamente anche se recupererà con molta probabilità dall'affaticamento muscolare che tra l'altro gli ha fatto salutare la sfida Champions con il Barcellona, però per me l'uomo chiave resta Lautaro. Se dovessi buttare un euro lo scommetteri tutto su Stefano Sensi, è l'uomo del momento, io sono completamente stregato e innamorato di lui e mi aspetto che faccia la differenza anche contro Juventus, molti dicono aspettiamo aspettiamo, siamo caldi su Sensi però come dimostra la classifica dopo 6 partite di campionato di Champions è sempre risultato essere il migliore a generale azzurri, questo vuole appuntire qualcosa con la Lazio in partita in panchina, l'Inter ha fatto difficoltà, l'Inter è andato in difficoltà, poi è entrato lui, si è visto un'altra Inter, l'Inter oggi è un Sensi dipendente, verrebbe da dire questo, quindi mi aspetto tantissimo, tantissimo da Sensi, mi aspetto ancora un'altra prova straordinaria, al momento lo considero anche tra i centrocampisti più in palle e forti del momento della Serie A, non mi nascondo a dirlo, stravedo per lui e mi aspetto grandissime cose anche domenica. Più o meno sono in linea con voi però non voglio sovrappormi ai vostri giudizi e quindi io dico Barella perché io sono convinto fin dall'inizio che diventerà un calciatore veramente fondamentale per l'Inter e anche per la nazionale e sarà un calciatore veramente molto importante, la crescita è iniziata, è ancora in fase crescente, la prestazione di Barcellona lo ha un po' diciamo così consacrato anche all'interno degli schemi nerazzurri e spero, mi auguro e credo possa essere una partita molto molto importante per Barella se starà attento a limitare anche la fuga in una partita così importante e se riuscirà ad essere messo poi anche nelle condizioni di far bene e di giocare tutta la partita. Ci credo fortemente ecco. Ragazzi stiamo andando un po' lunghi per questo episodio quindi acceleriamo un po' i tempi e vi chiedo proprio brevemente prima di avviarci la chiusura Raffaele e poi Antonio questo Inter-Juventus chi ha più da perdere secondo voi? Se guardiamo la classifica la Juventus perché l'Inter potrebbe in qualche modo anche accontentarsi del pareggio anche se comunque non è nella filosofia e nella mentalità di Conte. Andrebbe bene anche un pareggio con la Juventus visto comunque l'Inter nella 26 su 6. L'Inter però io credo che ci andrà in campo assolutamente per vincere Conte vorrà battere la sua ex Juventus dare un sinale forte al campionato e riscattare la sconfitta come ha detto Conte che brucia e deve continuare a bruciare nel campo nonostante comunque la prestazione è fornita quindi sicuramente vedremo un'Inter aggressiva alla ricerca dei tre punti. Io mi aspetto veramente una grande partita. Antonio? Sì la Juventus innanzitutto perché la squadra da battere quindi arrivando da otto squetti di fila ovviamente ha più da perdere rispetto all'Inter e anche in termini di classifica perché l'Inter vincendo andrebbe a più 5 perdendo andrebbe invece a meno uno quindi sarebbe comunque lì ma anche in termini di calendario perché questo filotto di vittoria dell'Inter è stato giustificato dicendo che l'Inter ha avuto un calendario semplice se poi andiamo a vedere la Juventus la Juventus ha giocato con Parma, Fiorentina in crisi, Verona, Brescia e Spal per cui anche la Juventus come forza ha incontrato solamente il Napoli l'Inter, il Milan e la Lazio e quindi attenzione la Juventus ha da perdere secondo me sotto tutti i punti di vista citando Conte. In parte sono d'accordo, in parte aggiungo anche una mia considerazione personale, questo inter-Juve è troppo sentito secondo me da Antonio Conte e secondo me sta preparando questa partita fin dal suo arrivo e senza una vittoria, io credo con una vittoria dell'Inter la Juventus sarebbe più in grado poi di recuperare alla lunga e senza una vittoria l'Inter secondo me perderebbe qualcosina, almeno come diciamo primo obiettivo tra virgolette stagionale, chiamiamolo così, però sono estremamente fiducioso e non vedo l'ora di giocarla questa partita, di assistere a questa super partita, ragazzi io quindi chiuderei questo episodio di Passione Intertalk, penso sia d'obbligo chiudere come sempre con un pronostico su questa partita, Antonio parto da te, dacci un risultato secco 1-1, passa in vantaggio l'Inter, viene raggiunto dalla Juventus Raffaele? 2-0 netto in favore dell'Inter Anch'io avrei detto 1-1 come Antonio invece, ma a questo punto allora mi sbilancio e vado anch'io sull'1-0 secco dell'Inter, vedremo poi chi indovinerà questo risultato, spero o io o Raffaele, ragazzi direi che siamo arrivati alla chiusura di questo episodio di Passione Intertalk, abbiamo parlato e abbiamo approfondito tanti temi, come sempre prima di salutarvi ricordo a tutti quanti di andare a seguire passionepremial.com che è il nostro sito partner e i nostri amici che stanno portando avanti un bel progetto anche con il loro podcast e sono in concorso per vincere il premio di miglior blog del 2019, aiutiamoli a farli confermare ancora una volta campioni, vi ricordo poi Migliori Ptp, il sito che si occupa di tecnologia tv online e decoder, visitate il sito miglioriptp.com, se volete sponsorizzare Passione Intertalk in questo spazio vi basta mandare una mail a info-passioninter.com per avere tutte le informazioni necessarie e come sempre ringrazio i nostri ascoltatori che sono arrivati fino a questo punto del nostro episodio, vi ricordo di seguire passioninter.com sul sito, su tutti i canali social, sul gruppo Telegram, di lasciarci anche un feedback e un mi piace se questo episodio vi è piaciuto oppure dateci consigli chiaramente per migliorare, ringrazio i miei compagni di viaggio che sono stati con me anche in questo episodio, il redattore di passioninter.com, Raffaele Caruso Ciao Lorenzo, ciao Antonio e un saluto a tutti i nostri tifosi E Antonio Siracusano Grazie a te, ciao Lorenzo, ciao Raffaele, ovviamente un saluto a tutti i nostri ascoltatori Io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di passioninter.com, Inter Juventus si avvicina potete seguirla sul nostro sito in diretta con tutte le ultime notizie da non perdere per questa super sfida, ci risentiamo settimana prossima per commentare questo derby d'Italia, speriamo per commentarlo con un risultato positivo, prepariamoci comunque a tifare tutti insieme e sempre Forza Inter